Era il 2001 quando BMW ha introdotto per la prima volta l'iDrive e c'è quel sistema di controllo dell'infotainment basato sul rotore posizionato sul tunnel centrale. Nel 2015 invece ha introdotto le gesture control e quindi quel sistema che invece prevede il riconoscimento da parte di una telecamera dei movimenti della mano. Ecco che cosa prevede però il futuro? Secondo BMW sostanzialmente un'integrazione di tutti questi sistemi e quindi io sono venuto al World Mobile Congress 2019 di Barcellona perché BMW ha preparato un simulatore di quello che potrebbe essere la vita a bordo di un'auto del domani, un'auto elettrica connessa a guida autonoma. Siamo dentro il simulatore e Paolo in questo momento sta provando quello che è appunto questo simulatore di realtà aumentata, di realtà virtuale. Come potete vedere dallo schermo noi vediamo quello che Paolo sta vivendo in prima persona, la iNext è arrivato a prenderlo e lui con la mano sta aprendo lo sportello e si sta mettendo al volante. Persino i movimenti come chiudere gli sportelli, potete vedere, o allungare le mani sul volante, sono riconosciuti da questo sistema molto complesso di visori e ci hanno spiegato sostanzialmente che Paolo sarà in grado di switchare dalla modalità autonoma che è quella definita Ease alla modalità di guida in prima persona che invece si chiama Boost e di conseguenza quando sarà in modalità Ease, sarà in grado di interagire con l'auto, col sistema di infotainment e con l'ambiente, visto che ha sostanzialmente del tempo libero. Con la voce e con un tocco, più che altro diciamo un puntamento del dito verso lo sportello, Paolo è riuscito ad aprire il finestrino e questa è soltanto una delle tante cose che lui può realizzare, effettuare con questo sistema integrato di interazione che BMW chiamano Natural Interaction perché vuole simulare tutte quelle che sono le azioni che si fanno quotidianamente, quindi il tocco oppure il comando vocale o ancora il riconoscimento dello sguardo e quindi il puntamento degli occhi. In questo momento Paolo sta guidando in prima persona mentre deve uscire da questo aeroporto virtuale. Ecco è stata inserita la modalità Ease, perciò Paolo ha tolto le mani dal volante e l'auto sta procedendo in maniera autonoma. Compaiono sullo schermo dei comandi con i quali interagire e vedete sul parabrezza si aprono delle grafiche che vanno a mostrare a Paolo quelle che sono tutte le opzioni e le possibilità che lui può andare a richiamare e richiedere in questa fase di guida autonoma. Vedete degli elementi che si illuminano vuol dire che Paolo può semplicemente puntando il dito contro questo edificio in questo caso e dicendo more information quindi richiedendo maggiori informazioni ottiene così delle schermate che appunto gli spiegano quali sono i palazzi che lo circondano oppure tante altre cose. Quindi questo sistema è basato non soltanto come vi dicevo sul riconoscimento vocale ma anche su un gesture control di ultimo livello quindi superiore rispetto al riconoscimento gestuale che adesso conosciamo ma grazie a dei sensori che sostanzialmente scandagliano continuamente tutta la parte anteriore dell'abitacolo sono in grado di captare i movimenti di leggerli in maniera tridimensionale. In questa fase Paolo sta acquistando dei biglietti per uno spettacolo teatrale sta addirittura in realtà guardando un film o perlomeno il trailer di un film si è scurito il parabrezza quindi modalità di guida totalmente autonoma Paolo si può rilassare anche il suo schienale si è inclinato in maniera tale che possa rilassarsi e godersi il viaggio Ed eccola qui la iNext che abbiamo provato se così vogliamo dire pochi minuti fa nel simulatore si tratta dello studio di un SUV di dimensioni piuttosto generose siamo attorno ai 4 metri e 80 4 metri 90 secondo me non è stata ufficializzata la lunghezza che appunto prefigura quella che sarà l'auto di domani però un domani non troppo lontano perché qui non parliamo di una fase diciamo dell'evoluzione che prevede una guida autonoma esclusiva al 100% ma quella fase di transizione in cui sarà comunque possibile prendere il comando totale dell'auto e quindi guidare ed è per questo motivo che l'abitacolo è stato progettato in maniera tale che alcuni comandi vengano fuori soltanto quando effettivamente ce n'è bisogno mentre sono celati o comunque scompaiono quando invece la modalità di guida autonoma è stata inserita ed è anche per questo che come potete vedere l'abitacolo è strutturato un po' come fosse un salotto dove chiaramente si va a massimizzare lo spazio d'abitabilità per gli occupanti che possono quindi viaggiare in totale relax senza dover pensare alla strada ed è uno studio che vi dicevo è piuttosto concreto perché parte di ciò che abbiamo visto nella simulazione di oggi arriverà entro il 2021 così dice bmw sulle auto stradali e poi anche perché dal punto di vista stilistico è già imparentata chiaramente con alcuni modelli che attualmente sono sul mercato come per esempio la serie 3 oppure la serie 8 per esempio questo baffo che sale verso la spalla e diventa tridimensionale all'altezza del montante quindi dicevamo lo studio di un'auto iperconnessa ipertecnologica e chiaramente elettrica da un prototipo a qualcosa che invece è molto concreto e cioè la nuova serie 3 che in questo momento sta vivendo il suo momento di gloria perché chiaramente sta per arrivare nelle concessionarie di tutta Europa si parla di marzo ma lei è qui per un altro motivo e cioè che appunto con il suo debutto nelle concessionarie viene presentato anche la versione ufficiale e definitiva dell'assistente personale di bordo di bmw un sistema che è disponibile con la versione più evoluta dell'infotainment bmw che conosciamo bene controllabile grazie all'idrive di cui parlavamo prima tramite il touch nello schermo centrale che è dotato però anche di telecamere che quindi riconoscono il gesture control e poi i comandi vocali richiamabili con la scorciatoia sul volante un'integrazione quindi di tutti questi sistemi che fa sì che il guidatore in base alla propria ai propri gusti oppure alla contingenza quindi alla situazione possa scegliere il modo più intuitivo più comodo più pratico per controllare il sistema di infotainment delle nuove bmw grazie a tutti